Musica Amici sportivi di Videonola, ben ritrovati al Salotto Jack il nostro approfondimento dedicato ai tornei che si tengono sotto l'egida del trofeo Jack presso il centro sportivo Maracanà siamo giunti alla sesta puntata e di conseguenza è la sesta giornata che è appena terminata per i campionati maggiori stiamo parlando della Serie A e della Serie B e focalizzeremo la nostra analisi partendo proprio dalla classe regina attraverso le grafiche Sesta giornata di Serie A che si è aperta con la vittoria dell'Everton contro il Lecce per 6-4 seguita poi dalla vittoria dell'Inter a sua volta contro il Benevento per 9-6 Napoli-Novara termina 10-5 mentre invece l'Akragas e Corsaro contro l'Arsenal per 7-3 Trabzonsport-Manchester United termina 13-8 a favore dei Turchi Valencia-New Saints 8-5 CSKA-Mosca contro Millwall 5-3 mentre la Roma vince con l'Aeduk-Spalato per 3-0 per una classifica provvisoria che vede al primo posto in solitaria imbattuta l'Inter con 18 punti mentre invece Napoli e Valencia sono a 15 Trabzonsport 13-10 Arsenal 10-10 mentre al Millwall Manchester United CSKA-Mosca sono a 9 punti e il Lecce-New Saints ed Akragas sono a 7 un altro terzetta quota 6 punti formato da Everton-Rome e Benevento mentre invece il Novare penultimo chiude la classifica l'Aeduk a meno 1 per la prossima giornata osserveremo le seguenti sfide che quindi comporranno la settima tornata di campionato Everton-Arsenal, Millwall-Akragas, Lecce-Valencia, Manchester United CSKA-Mosca New Saints contro Napoli, Inter-Trabzonsport, Novara-Aeduk-Spalato e Roma contro Benevento Torniamo in studio per parlarne con il nostro opinionista di giornata il signor Lisio Hein disponibile in terra olandese e viene a farci compagnia Isidoro Tardivo, cameraman, operatore nonché uomo che registra e vede tutte le partite effettivamente della Serie A al centro sportivo Maracanà Quindi chi meglio di me può parlare di questa Serie A, di questa stagione Buonasera Giando, buonasera a tutti quanti i nostri telespettatori Per la sesta giornata quali sono le squadre che ti hanno fatto un'impressione maggiormente positiva? Partiamo così a freddo con una domanda significativa per te Guarda, chi mi ha fatto una grandissima impressione in questa giornata è stato il Manchester United una partita che per me ha gettato alle ortiche quella con il Trab soprattutto a causa delle sue deficienze in porta che oramai durano da tre giornate Patron Santaniello ha cercato infatti di porre rimedio a queste mancanze nell'ultima quindicina di giorni ma le indisponibilità che gli sono occorse veramente l'hanno frenato nella sua rincorsa al secondo posto perché carta alla mano con la disponibilità di un portiere il Manchester United sarebbe secondo perché ha buttato via due vittorie facili quella con il Trabzonspor vinceva 4-1 fine primo tempo ha perso 11-8 il secondo con ovviamente errori specie tecnici segnati all'interno dell'area di rigore quindi quando Santaniello che ha vestito lui infatti i parni di portiere ha cercato di porre rimedio a questa mancanza ha fallito purtroppo perché non è il suo compito chi anche mi ha fatto una buona impressione è il New Saints secondo me queste due sono le squadre di rivelazione di questa stagione calcettisti che non hanno calcato i campi della Serie A l'anno scorso e che invece hanno dato una grossissima impressione in questo avvio di campionato sebbene magari contro i Valencia non abbiano giocato la loro gara migliore di stagione hanno fatto vedere comunque cose importanti nelle prime cinque giornate quindi mi pongo loro come squadre al top di questa power ranking delle promesse della Serie A infatti la Serie B riesce sempre a fornire delle squadre interessanti che vengono poi a calcare i campi della Serie A anche altre squadre per questa giornata hanno fatto valere il proprio impegno nonostante siano a tutti gli effetti delle matricole della classe regina ma direi di spostare la nostra analisi anche sull'Inter che settimana prossima completerà un calendario thriller per le prime giornate affrontando il Trab Zonesport quindi diciamo che finora le ha vinte tutte e un po' alla volta dovrebbe avere sfide molto più abbordabili per cercare di portare a casa questo campionato e renderlo dalle tinte derazzurre quando abbiamo analizzato il calendario appena uscì notammo che l'Inter qualora fosse uscita indenne dalle prime sei giornate non dico che poteva considerare di aver già vinto il campionato però un 70-80% di buone chance di vittoria finale le avrebbe sicuramente guadagnate ha affrontato Everton che al netto delle proprie mancanze che sono colpa della squadra non colpa ovviamente dell'Inter che è andata lì a pieno organico a giocarsi la partita e ha avuto una vittoria schiacciante e del Valencia che erano le sfide forse dal punto di vista tecnico e dal punto di vista anche psicologico più impegnative e l'Inter ha superato ampiamente questa prova ha avuto paradossalmente maggiori difficoltà nell'ultima sfida una sfida che poteva perdere ovviamente solo l'Inter che si è presentata in cinque uomini contati vero cinque uomini di assoluto livello quintetto Prisco, Peccerella, Russo, Pastore no, l'ultima partita è venuto solamente Desapio non è venuto Catapano quindi cinque uomini contati con assenze come Catapano assenze come Napolitano diciamo non c'è stato il quintetto base che ha fatto così bene finora nelle prime giornate io rimango dell'opinione che l'Inter solamente può perdere questo campionato sei punti di vantaggio sulla seconda il Valencia però è stato anche il suggerimento che da tutti quanti è arrivato a Marco Adinolfi il dover serrare i ranghi per non arrivare impreparati a quelle sfide più semplici cosa che ovviamente non sarà con il Trabzonspor Trabzonspor che comunque al netto di qualche passaggio a vuoto vedi il pareggio contro l'Akragas per 6-6 arrivato proprio al fotofinish è stata forse anche questa la terza squadra che posizionerei su quel podio di squadra di rivelazione perché noi sappiamo le potenzialità del Trabzonspor le conosciamo da oramai 4 anni ma non è stata mai una squadra da campionato quest'anno che ha trovato la quadra giusta con un quintetto interessante di base e i giusti ricambi sulla panchina il Trabzonspor ha fatto non bene di più rispetto a quanto ha fatto l'anno scorso e quindi è una squadra da non prendere totalmente sotto gamma Un'altra delle vittime notabili che ha fatto l'Inter in queste prime giornate di campionato è stato il Napoli battuto col punteggio di 11-1 un Napoli che al di là di quella defianza di quella sconfitta importante le ha vinte tutte e questa settimana ha vinto per 10-5 contro il Novara continuando ad inguaiare il gatto del Jack che adesso è al penultimo posto da solo Il Napoli è la seconda squadra dopo l'Inter che esprime il miglior calcio è un calcio ponderato è un calcetto interessante quello che propongono gli uomini di Felice Paolo Panico è sinceramente l'unico che fa affidamento sul pieno organico sia per quanto riguarda gli uomini disponibili sia per quanto concerne lo sviluppo dell'azione e del gioco è una manovra corale quella che cerca di imporre la squadra napoletana non fa affidamento sulle temporanee dei singoli quindi su tecnicismi ma è proprio il classico gioco da calcio a 5 improntato al trofeo Jack l'ho visto fare solamente in quest'anno all'Inter che ovviamente però avendo dalla sua calcettisti come Lino Catapano che hanno calcato campi importanti ancora oggi fanno allenamenti da calcetto a 5 hanno tutta un'altra forma mentis anche Peccerella che ricordiamo ha fatto esperienze nel Nola Calcio a 5 sebbene non a pieno organico ma comunque ha una logica da calcio a 5 applicata in un trofeo come questo che secondo me è importantissimo specie su un campo grande come quello della Serie A la ricerca dello spazio anzi tramite le trame di gioco è importantissima ed è solo il Napoli che fa questo tipo di gioco oltre l'Inter mentre gli altri si affidano a strappi a giocatori che sono più giocolieri che calcettisti e fanno affidamento ovviamente sui colpi dei singoli il Novara l'abbiamo visto è riuscito a restare in gara col Napoli solamente fino a quando Francesco Giuliano ha potuto offrire una prova di sostanza all'interno del campo ma poi è dovuto soccombere sotto questa mole di gioco che è veramente enorme spiegare la parola forse riduttivo ma veramente la mole di gioco che sviluppa il Napoli in una partita è importante è veramente importante è forse proprio perché le manca qualcosa rispetto all'Inter sotto il profilo tecnico si è vista tutta questa differenza nello scontro diretto Inter-Napoli dove ogni azione dell'Inter a parità di gioco veniva trasformata in gol per il tasso tecnico maggiormente elevato rispetto ai ragazzi del Napoli non che me ne vogliano ma penso sia un dato oggettivo questo qua quello da esplicare come un dato oggettivo è che il trofeo Jack è molto più vicino al calcio a 5 rispetto a qual si voglia applicazione del calcio ad 11 nonostante le dimensioni del campo quindi le squadre che approcciano con la giusta attitudine la giusta mentalità il green del centro sportivo Maracanasi in Serie A che in Serie B partono con una marcia in più rispetto a chi invece si affida come sta dicendo appunto Isidoro ai gesti dei singoli oppure ai tecnicismi più da giocoleria che da calcetto per completare l'analisi riguardo alla Serie A c'è anche da parlare delle squadre che dal basso stanno guadagnando dei punti importanti stanno risalendo la china stiamo parlando ad esempio di Everton e Roma Isidoro due squadre che nonostante approcci differenti alla gara hanno raggiunto quota 6 punti l'Everton ha vinto a tutti gli effetti con Lecce mentre invece per la Roma di Giampaolo Cassese una vittoria come piace al Presidente senza sudare 3 a 0 a tavolino ed è pur sempre una vittoria e tre punti importanti in campionato assolutamente al netto dei tre punti guadagnati da Roma Everton l'Everton secondo me per la distinta scusate per la rosa che ha presentato ad inizio stagione non merita assolutamente la posizione che ricopre in classifica colpi avuto che non so perché arrivino per la squadra inglese l'ultima vittoria l'ha centrata con 5 uomini contati con Patron Ruggiero e Ivan Cappuccio a tirare la carretta insieme ai soliti fedelissimi Peppe Brancato è il portiere Bernardo l'unico acquisto che finora è sempre stato presente è un ragazzo serio che ha preso l'impegno ha coperto l'impegno fino in fondo fino ad ora si è presentato sempre con queste 5 unità contate che ha penalizzato l'Everton in classifica da due giornate è riuscito a centrare 6 punti in due vittorie con due vittorie e quindi sta pian pian risalendo la classifica ma lo ripeto organico alla mano l'Everton dovrebbe perlomeno essere nella parte sinistra della graduatoria la Roma invece è la solita Roma grandi partite grandi sconfitte non ovviamente nei distacchi ma la solita inesperienza che caratterizza oramai la Roma da due stagioni a questa parte un bellissimo gioco per quanto riguarda ovviamente le squadre di medio rango se vogliamo così definirle si rientra in partita tardi oppure si parte a cannone e poi si subiscono clamorose rimonte come è avvenuto col Valencia dove a detta di tutti sul terreno di gioco la Roma non meritava sicuramente di perdere perlomeno nemmeno di pareggiare ma di vincere mi sembra che la Roma vincesse a fine primo tempo 4-5-0 una cosa del genere e poi ha perso 6-5 una cosa clamorosa che ovviamente ha fatto infuriare Patron Cassese però il tutto va inserito nel più ampio contesto della zona retrocessione vorrei parlare proprio di questo perché è clamoroso per me l'Aiduk Spalato l'anno scorso si giocava le primissime posizioni addirittura a 7 giorni nella stessa situazione l'anno scorso a 7-8 giornate prima della Jack Cup l'Aiduk era a soli due punti di distacco dal Valencia primo non che è stata la squadra che ha vinto il primo titolo stagionale ha vinto la Jack Cup la Jack Cup inizia anche la Jack Cup oggi è una squadra irriconoscibile ci sono i fedelissimi c'è Tommaso Miele c'è Gatta e tutti gli altri però ha perso pedine importanti come Nastri ha perso il portiere che per me era onorato sicuramente al primo posto sul granino più alto del podio e quindi sono assenze che hanno fatto perdere il 70-80% del valore collettivo della squadra però comunque l'Aiduk era fatto di giocatori di esperienza me lo trovavo ecco lì magari a balcamenarsi tra i 7-6 punti con squadre come Benevento Lecce ma non certamente vederla a 0 punti anzi ora a meno 1 perché ha preso anche il punto di penalizzazione ed è un peccato perché i calcettisti dell'Aiduk al netto di qualche scorribbanda di troppo meriterebbero tutt'altra posizione di classifica proprio per quanto riguarda la classifica per cercare di rimediare a questi problemi a queste annose questioni che stanno accorrendo soprattutto nella zona di bassa classifica fra un paio di giornate la Serie A va in letargo fino a gennaio da gennaio in poi si riparte con il calcio mercato aperto quindi quanto è importante sfruttare la sessione di mercato di gennaio per risollevare le sorti di un team guarda Giardo come anche i più furbi hanno già pensato di adoperare questa tattica il mercato è paradossalmente sempre aperto quest'anno al trofeo Jack non è come l'anno scorso dove dovevi consegnare all'atto dell'iscrizione la lista dei tuoi 12 giocatori che poi avresti convocato per poi cambiarla a gennaio oggi conta la prima presenza effettuata sul campo nel senso che se io finora passate 6 giornate ho giocato sempre con i stessi 7 calcettisti paradossalmente posso portare altri 5 calcettisti a mio piacimento che facciano ovviamente una presenza sul terreno di gioco quindi è un calcio mercato chiuso ma aperto se possiamo così definirlo la finestra di mercato magari ecco per qualche mancanza dell'ultimo minuto per esempio lo United l'ha dovuto riempire con dei portieri chiamati all'ultimo secondo e quindi magari ora ha bisogno di sistemare la lista perché non ha più spazio oppure la Roma che ha dovuto chiamare tre portieri perché qualche volta i primi due non hanno potuto essere presenti e nonostante tutto il sottoscritto ha fatto più il quarto portiere che il difensore di ruolo addirittura richieste di qualche di qualche giocatore che ha che entrano in rotta di collisione con una squadra e vorrebbe venire nell'altro si parla addirittura di Marotta alla Roma quindi totalmente gente che vuole ancora partecipare al trofeo Jack ci sono certamente la finestra aperta di mercato da ampio spazio di ricambio è un mercato totalmente aperto non ci sono vincoli i cambi possono essere tutti e nessuno uno nessuno e centomila se vogliamo così fare una battuta ma di chi ha bisogno il calciopercato il calciopercato entra in una fase dove chi ha bisogno veramente può effettuare acquisti importanti con questo voglio dire le squadre al vertice non toccheranno nulla ovviamente l'Inter ad esempio la paliziana che non farà nessun acquisto non ne ha bisogno per gli uomini che ha e ovviamente ha già la lista piena e non penso cambierà qualcosa al limite è solamente un acquisto che può realmente innalzare l'asticella dell'Inter qualcosa di clamoroso per dire un panico all'Inter un acquisto di quel livello che serve a dare maggior tasso tecnico alla squadra ma di chi ha bisogno di fare acquisti una Roma abbiamo detto ora con Marotta l'Aiduc che deve trarsi fuori dal pantano dei 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 play out il Lovara che è totalmente disastrato cioè ci sono squadre che di cui c'è bisogno facciano acquisti Manchester United lo ripetiamo ha bisogno di un portiere ma non credo che comunque il calciomercato sposterà gli equilibri del campionato in sé perché penso che gli ultimi due posti siano già definiti a meno che qualcuno non riesca a trarsene fuori con con la forza come per esempio credo possa fare l'Aiduc spalato ultime due squadre soprattutto partite di cui non abbiamo parlato Arsenal Agragas terminata con il punteggio a favore dell'Agragas per 7-3 e CSK Mosca contro Millwall vinta dai Moscoviti per 5-3 squadre che secondo te stanno facendo un buon cammino in campionato che forse hanno bisogno di qualcosa in ansiedi di calciomercato questo Arsenal ad esempio approccia la Serie A avendo forse qualche problema in più rispetto a come ha approcciato la Serie B lo scorso anno ne ho parlato con Luigi Principato e Patron Napolitano anche la loro detta dato che l'Arsenal ha un'età media molto alta in campo penso sia non so se sia la più ecco la più esperta ma sicuramente tra le prime tre per ovviamente età media stanno pagando soprattutto in termini fisici l'apporto con il campo a dimensioni maggiori e soprattutto stanno pagando gli spazi troppo larghi quindi non c'è una copertura omogenea del campo non si riesce a restare in partita dal punto di vista fisico non mentale per tutti i 50 minuti ovviamente con il campo piccolo della Serie B con il campo a dimensioni ridotta della Serie B c'erano dinamiche differenti per esempio il tiro di Principato che è un tiro precisissimo Principato per distacco penso sia il giocatore maggiormente tecnico di tutto il trofeo Jack ovviamente mettere palla nei piedi di Principato è praticamente come mettere il pallone in una cassaforte sicuramente non lo oggetterà sicuramente adopererà la soluzione più giusta per gestire la sfera e soprattutto una facilità di tiro disarmante per potenza e precisione ciò l'abbiamo visto l'anno scorso in Serie B dove ha segnato più di 100 gol però in Serie B ecco appena si superava la metà campo si liberava il tiro oggi tirare la metà campo in Serie A non equivale alla stessa cosa che si fa in Serie B dove ovviamente ci sono determinate dinamiche che sono totalmente diverse è questo che sta pagando l'Arsenal in questo momento mentre un plauso va fatto al CSKA che nonostante l'abbandono di due colonne Panico e Agnelo Peluso ha saputo fare gli acquisti giusti al momento giusto Bejaoui è un calcettista che personalmente non conoscevo o meglio conoscevo il fratello e ho detto e dissi infatti a Felice Paolo Panico se è forte la metà del fratello il CSKA ha fatto un grande acquisto di risposta Panico mi rispose in realtà il fratello maggiore è più forte del piccolino ha detto allora da Tigra al Fieri può dormire sogni tranquilli un plauso invece voglio fare anche ai ragazzi dell'Akragas dove si sono presentati per l'ennesima volta in cinque contati sul campo e hanno avuto ragione di una squadra esperta come l'Arsenal per me l'Akragas è una squadra importante perché l'anno scorso ha fatto tanto tanto bene in Serie B e non merita sicuramente di arrivare in cinque al campo e di sudare e combattere su ogni pallone è vero che ha giocatori esperti come Pignatelli non conoscevo Fidanzio perché ho visto poco la Serie B l'anno scorso però è un giocatore che a me piace personalmente fa cose concrete sebbene qualche volta il suo compagno di squadra Buione lo richiami fin troppo ma conosciamo le caratteristiche di Fabio è la polemica fatta in persona sul rettangolo di gioco inizia a parlare al primo minuto e poi finisce al cinquantesimo si trasforma completamente cumula troppo stress in campo lui che è di poche parole nella vita comune in mezzo al campo lo stress fatto in persona ma Fidanzio veramente mi ha colpito perché è un giocatore che abbina qualità e quantità e non si ferma un attimo cosa importante nel campo a dimensioni maggiori perché c'è bisogno di moto perpetuo sul rettangolo di gioco abbiamo analizzato le 16 squadre e la loro attuale situazione al netto della sesta giornata di campionato adesso è il momento di spostarci direttamente al centro sportivo Maracanà c'è il servizio con tutti gli highlights di giornata ma soprattutto le interviste ai protagonisti che sapranno rispondere di rimando con i loro pensieri e le loro impressioni raccolte direttamente nel post match va in archivio la sesta giornata di A della settima edizione del trofeo Jack si conferma sempre più capolista l'Inter che centra il sesto successo consecutivo e da punteggio pieno guida la graduatoria una vittoria non semplice quella arrivata contro il Benevento per i Nerazzurri messi in difficoltà dalla squadra di Barolo e Soci ma il maggior tasso tecnico della capolista ha permesso comunque di centrare il successo con la partita terminata con il punteggio di 9 a 6 prosegue il trend positivo del Valencia che si impone contro il New Saints per 8 a 5 partita condotta con esperienza dalla squadra di testa company che tengono a bada la sempre sgusciante squadra gallese sugli scudi Luigi Jovino quattro gol per lui che alimentano la sua rincorsa a Sant'Aniello nella classifica cannonieri ed a proposito di Red Devils lo United getta all'Urtiche un grandissimo primo tempo e viene rimontata dai turchi del Trabzonspor che si impongono per 13 a 8 contro gli inglesi cuore turco dicevamo che rimonta da un pesante passivo archiviato nella prima frazione e ottiene i tre punti fondamentali nella rincorsa ai piani alti della classifica nella parte destra della graduatoria importante successo per l'Everton che in soli 5 uomini con Vincenzo De Feo extra d'occasione di lusso schiantano in Lecce per 6 a 4 una vittoria che tira fuori dalla crisi it office e Capitan Ruggero raguarda il mercato di gennaio per provare a risistemare la delicata situazione in graduatoria cade l'Arsenal con l'Agragas che compie l'ennesimo miracolo e la spunta per 3 a 7 i siciliani ottengono una vittoria fondamentale di carattere per tirarsi fuori dalla zona retrocessione per gli inglesi c'è da registrare l'ennesimo passo falso in una stagione che sembra improntarsi su alti e bassi vittoria di carattere per il CSKA Mosca che non sorprende più e conquista i tre punti contro il ben più quotato Millwall il 5 a 3 della squadra della Tigre proietta i moscoviti verso le zone nobili della classifica per gli inglesi partita da dimenticare subito e che non fanno dimenticare comunque gli ottimi risultati centrati finora dalla squadra di Saminelli e Soci in chiusura in Napoli in Guaia il Novara i piemontesi escono sconfitti dal derby con gli azzurri per 10 a 5 serve rientrare subito dalla crisi per la squadra di Maurizio Santaniello specie quando in questo turno tutte le squadre della zona play out hanno ottenuto successi importanti in chiave salvezza un teorema questo è esplicato al meglio dalla Roma che senza versare una goccia di sudore vince a tavolino contro l'Aiduc Spalato i croati si autocondannano all'ultimo posto in graduatoria mentre i capitolini sorridono e scappano via dal pantano della zona play out Siamo con Giovanni Ruggiero dell'Everton Giovanni l'Everton sembra essersi finalmente rilanciato e sebbene solo in 5 uomini è riuscito a centrare una vittoria con il Lecce che è importantissimo per la classifica Sì noi lo sapevamo quest'anno abbiamo rifondato la squadra tutti i giocatori nuovi abbiamo bisogno di un po' di tempo per collaudarci partita dopo partita stiamo giocando sempre meglio adesso anche se eravamo in 5 contati puntiamo sempre sul gruppo sul cuore e sulla grinta catenaccio e contropiede abbiamo portato a casa anche questa vittoria Tanti i grandi nomi dell'Everton nelle prime giornate ma forse qualche pedina è venuta a mancare come mai questa Everton non riesce più ad esprimere la pienezza dell'organico delle prime giornate Vabbè un po' per i campionati che adesso sono iniziati stanno diciamo nel momento un po' clou ma è stata solo una coincidenza questa partita che siamo in 5 di solo siamo sempre 7-8 persone 7-8 di noi però dalla prossima ci saremo di nuovo numerosi non molliamo nonostante nonostante questo ovvio ad handicap se possiamo così definirlo per l'Hendica e per l'Everton a cosa punta questa squadra ha un ingresso comunque in Champions League oppure magari entrare in Europa League e puntarla a vincere per ampliare comunque il palmarès ma guarda la storia dell'Everton parla sempre di un piazzamento in Champions abbiamo sempre fatto un'ottima figura l'anno scorso abbiamo vinto il campionato quindi diciamo che il nostro obiettivo non è quella della partecipazione all'Europa League però attualmente le squadre già sono alcune squadre già sono abbastanza in fuga però noi cercheremo di tutto cercheremo di fare tutto per vincerle tutte e puntare al massimo che possiamo arrivare una nota di merito vorrei farla anche al mio nuovo giocatore che stasera è venuto ad onorarmi direttamente da Ischia un'ottima prestazione anche se due volte davanti alla porta purtroppo non passa abbiamo rischiato di pareggiare una partita che abbiamo dominato lascio la parola a De Feo De Feo un gradito ritorno per te sebbene come extra questo qua che cos'è un tradimento alla Roma? no nessun tradimento alla Roma ma è un praticamente sono venuto qui e se dovevo giocare con qualsiasi altra squadra che non è la Roma ho giocato con l'Everton con il mio amico Giovanni Ruggino è stato un onore giocare per l'Everton campioni di Dala scudettata sono arrivati anche i tre punti l'ho fatto un po' nervosire durante la gara è vero come ha detto prima non l'ho servito assistito in due occasioni in cui era libero ma non gioco da tre mesi un po' di lucidità è venuto a mancare l'importante è che abbiamo vinto credo che l'Everton comunque come ha detto anche il presidente non meriti questa classifica e spero che può ambire alla Champions al massimo una partecipazione dignitosa della squadra londinese siamo con Napolitano ovviamente per l'Inter che continua a vincere sesta vittoria consecutiva e 18 punti per la capolista che continua a macinare gioco e risultati Sì siamo un'ottima squadra siamo una squadra ben compatta determinati giocatori di qualità e quantità ci divertiamo siamo un gruppo meraviglioso e pian piano stiamo crescendo partita dopo partita Oggi una sfida importante con il Benevento che vi ha dato filo da torcere forse tra le sei squadre fino ad ora impiegate nella sfida con l'Inter il Benevento è quella che vi ha creato più problemi in assoluto Sì Sì il Benevento è stata un'ottima squadra che ha affrontato il match a testa alta ci ha messo in difficoltà un paio di volte ma a noi con la nostra grinta usciamo sempre a testa alta L'Inter non si è nascosta fin dal principio è una squadra che punta al titolo e forse anche a qualcosa di più Marco Adinolfi non ha nascosto che durante questi anni abbia sempre voluto replicare quello successo che si chiama triplete Sì dai quest'anno sarà la volta buona che l'Inter farà il triplete perché noi ci crediamo stiamo qui con il Napoli un'altra vittoria oggi contro un Novara un solito Novara che alterna alte e bassi vi stava quasi recuperando ma poi alla fine 10-5 ne ha presi 10 dopo il Valenza ne ha presi 10 anche da voi diceva di non prendere le 10 dall'Inter le ha presi da Napoli Valenza giungere chi sei dall'Inter vabbè abbiamo subito un po' troppo per i miei gusti perché prendere tre gol quasi sul rimpallo non si può dobbiamo essere un po' più aggressivi un po' più cattivi perché questa partita è morta già all'inizio però li abbiamo tenuti in gioco quasi fino a 10 minuti dalla fine avevi una maglia se vogliamo divertirci questa non è la strada giusta dobbiamo migliorare su questo avevi una maglia l'hai mostrata su un gol il tuo primo gol a chi è dedicata ti tengo a dedicare questa maglia Feli questo è per te tornerai più forte di prima e ci teniamo a farti vestire ancora questa maglia ti aspettiamo felice siamo qui con Fabio Buglione Acacras questa squadra ci stupisce sempre ci sono partite più facili che perde invece partite contro le prime della classe le vinci oppure mette in difficoltà tutti avete pareggiato con il Trab stasera avete addirittura vinto contro l'Arsenal non avete capito nemmeno voi forse secondo me il vostro valore è vero anche perché in realtà forse abbiamo pagato all'inizio abbiamo pagato Dazio visto che dopo due anni nella serie B quindi un campo completamente diverso quindi ancora probabilmente ancora dobbiamo prendere le misure ora sembra che pian piano ci stiamo ambientando però ovviamente il nostro obiettivo resta sempre quello di una tranquilla salvezza e quanto prima possibile nell'organico non siete ancora al completo venite sempre in 5 stasera per la prima volta forse eravate tutti o quasi se si può dire 6 o 7 più o meno questo è il vostro problema principale quest'anno sì purtroppo quest'anno sembra che per una moltitudine di impegni non riusciamo mai ad essere tutti al completo certo che cercheremo sempre di venire ovviamente in un numero adeguato in quanto comunque il campo ripeto essendo il più grande c'è bisogno di cambi di rifiatare un po' stasera ci è andata bene che abbiamo avuto anche una sostituzione speriamo di continuare sempre così Emilio Piatti per adesso non si è visto ancora verrà a darvi una mano più in là oppure è difficile ritornare in serie dopo il triplete dell'Inter di Piatti il capitano penso attualmente sicuramente non verrà non so se con l'anno nuovo forse però anche per impegni lavorativi quindi attualmente è fuori però è ovvio che qualora volesse ritornare è sempre il benvenuto Siamo qui con il Traposono Sport un'altra vittoria l'ennesima vittoria senza che Tano Iovino questa è una nota sicuramente da sottolineare perdevate i 4-5 gol contro un buon Manchester United poi alla fine siete riusciti a portare a casa i tre punti Sì partita molto ostica primo tempo davvero imbarazzante da parte nostra ci hanno messo molto in difficoltà però fortunatamente nel secondo tempo come si suol dire abbiamo preso le misure abbiamo recuperato e fortunatamente abbiamo portato a casa la vittoria Bombe di Lauro è ancora qui in campo doveva andare via non andrà più via rimane qui con noi? Gossip trofeo no dovrei andare via comunque è inizio di gennaio quindi fino a che ci sono sono qui e provo a dare una mano alla squadra anche se nelle condizioni in cui sono adesso provo a fare il mio meglio diciamo che questo è un Trap tra virgolette più forte di sempre non è mai venuto con i cinque la formazione di Dolare quasi tutte le volte forse Fornaro non è mai venuto tutte queste volte è un Trap che prova a fare qualcosa in più del sesto settimo degli altri anni? abbiamo visto che casualmente le prime due tre partite sono state positive quindi abbiamo cercato di essere sempre di un organico completo per provare a puntare in alto in campionato anche se non è il nostro forte e proviamo a fare il nostro meglio con tutti gli effettivi possiamo dire la nostra siamo qui con Angelo Santanillo Manchester United stasera una sconfitta nonostante il primo tempo da favola di questo Manchester che cosa è successo poi nel secondo tempo Angelo? no vabbè il Manchester parte sempre forte ai primi tempi l'uno primo tempo infatti non è quotato poi il portiere purtroppo tiene un po' di acciacchi ultimamente il secondo portiere lavora fuori si è sacrificato il mio cugino però il secondo tempo siamo calati io sono uscito mi sono fatto male spero nulla di grave però il Manchester c'è il Manchester c'è mezza classifica adesso ma soprattutto la nota positiva di giornale sicuramente i tuoi sei gol con 29 reti sei il capo canoniere ancora in carica della serie A del trofeo Jack Lucio Pastore ne ha fatti 4 contro il Benevento quindi è a 24 se non mi ero errato quindi 25 gol quindi 4 gol 4 lunghezze puoi farcela vincere il titolo quest'anno io credo che a lungo andare Lucio farà sicuramente meglio io credo che finia un sacco di gol su perché ora siamo all'inizio mancano ancora 10 partite quindi a lungo andare penso che allungherà di molti gol però cerco sempre di giocarmene e di fare punti con la mia squadra Siamo in compagnia di Coppola e Lipaurul le atentiche colonne di questo CSK Mosca che ha vinto stasera contro il Millwall Coppola una partita difficile ma che alla fine nonostante le condizioni atmosferiche è stata vinta tre punti importanti per la classifica Sì sicuramente è stata una partita molto combattuta i ragazzi di là li conoscevamo già in parte però alla fine siamo riusciti a spuntarla tra poco recupereremo i fratelli del Trabzonspor alla faccia di Gaetano Jovino beh una partita diciamo fatta bene da parte nostra una buona partita per il CSK Mosca si parlava di Trabzonspor e abbiamo anche un ex Trab un ex CSK Mosca tornato fra i Moscoviti Lipaurul stasera per te scontro da centrale di difesa contro un centravanti come Savinelli diciamo che è stato uno scontro molto fisico forse alla fine qualcosa in più l'hai dato tu perché il CSK Mosca ha vinto stasera Sì sì da fare sicuramente i complimenti a Savinelli un attimo attaccante beh come hai detto un ritorno al CSK dopo un anno di Trab come si dice si ritorna sempre dove si è stati bene purtroppo il Trab non è una piazza per me troppe pressioni il capitano per me non è un vero capitano quindi sono ritornato dal vero capitano di questo vero Jack Giovanni Alfieri un ritorno per il CSK Mosca ma proprio in panchina sentivamo il capitano Giovanni Alfieri che diceva Coppola segna solo gol impossibili quelli più facili non gli piacciono due segnature che comunque incidono tanto sulla classifica soprattutto sul risultato finale ma che capitano sia in campo che in panchina Alfieri beh a me piace partire da dietro il capitano purtroppo ha preso questa fissa che io devo giocare in attacco ma lo accontentiamo piano piano lo accontenteremo Avanti così li paruli? Sicuramente il nostro obiettivo è superare il Trab Fainata adesso un po' più forti di noi c'è da dire che contro Agra, Cassa e Miluolo loro hanno fatto una sconfitta e un pareggio noi abbiamo fatto due vittorie questo dice tutto ricordo che il Lerby l'ha vinto per un solo gol fortunoso siamo in compagnia di capitano Adinolfi Virgola Matteo per specificare che siamo in compagnia del capitano dell'uomo del Valencia un Valencia che ha vinto anche stasera il capitano ha referto per 5 minuti più o meno quindi diciamo che all'inizio non è stata una gara semplice quella contro il New Saints ci teniamo a specificare il capitano se proprio non trovi aggettivi comunque dicevamo New Saints una bella squadra una squadra ostica tutti giocatori bravi è stata una partita difficile sotto un diluvio incredibile forse la giornata più piovosa di questa settima edizione però il Valencia il Valencia ancora una volta ha dato dimostrazione che c'è come dice qualcuno forse quest'anno dobbiamo fare punti per la salvezza speriamo di averli fatti sono 15 al secondo posto in classifica le ha vinte tutto il Valencia fin qui tranne contro l'Inter quindi alla fine ci siamo salvati ma sono gli altri che devono vincere quindi la salvezza è arrivata da adesso in poi sono tutti punti in più per rincorrere le posizioni più nobili della classifica eh sì negli ultimi tre anni non abbiamo mai concluso fuori dal secondo posto vogliamo centrare almeno questo obiettivo visto che l'Inter è inarrivabile e penso che non ne perderà nessuna da qui alla fine poi comprano anche le partite come la prossima contro il Trab che già sono già sono invitati anche loro da Gino a mangiare il panino quindi sarà un po' difficile che l'Inter ne perderà qualcuna noi facciamo il nostro campionato comunque una squadra che a differenza di tutte le diciamo tutte le persone che ci volevano definiti ancora una volta resiste mantiene tiene testa a tutte le squadre e dice sempre la sua Rieccoci in studio per spostare la nostra lente di ingrandimento il nostro focus alla Serie B il green a dimensioni ridotte del centro sportivo Maracanà ospita questo torneo vediamo l'attuale situazione in classe cadetta stessa giornata che si è aperta con l'Eister contro San Paolo 10-5 seguita poi da Empoli Salernitana 5-2 Olympique Lyon contro Porto 7-5 scusate contro Parma 7-5 per gli ospiti mentre invece il Porto perde per 7-5 contro la Fiorentina Foggia Cognaspor 7-2 Borussia Dortmund Cagliari 5-1 mentre invece la Sampdoria vince contro l'Ajax per 6-5 per una classifica provvisoria che vede al primo posto in coabitazione al netto della sconfitta dell'Ajax proprio la Fiorentina con i lanceri a 15 punti la seconda piazza a sua volta è condivisa fra Foggia e Borussia Dortmund il Cagliari al quinto posto con 12 punti in solitaria Olympique Lyon 10-10 mentre invece Sampdoria ed Empoli al centro classifica con 9 punti Parma 8-7 Cognaspor 7-6 Leicester 6-3 San Paolo 3-3 Salernitana un punto mentre invece il Porto è a meno 1 per la prossima giornata si osserveranno le seguenti sfide Borussia Dortmund Fiorentina Sampdoria Porto Cagliari Olympique Lyon San Paolo contro Ajax Parma Empoli Cognaspor Leicester e Salernitana contro Foggia torniamo in studio per parlarne sempre con Isidoro direi di partire proprio dalla gara che ha deciso la parte alta della classifica questa Sampdoria che al foto finisce addirittura al 28esimo della ripresa segna il gol del 6-5 salta di nervi all'Ajax che raccoglie un'altra espulsione che forse il giudice sportivo riterrà più importante della singola giornata e la Fiorentina riacquista la prima piazza in graduatoria a 15 punti con i lanceri è importante soprattutto perché la Fiorentina torna a vincere non che abbia smesso di farlo attenzione però nel big match è venuta a mancare proprio quella componente nervosa che poi ha riconquistato solamente nell'ultima parte di gara contro l'Ajax dove i lancieri avevano gestito bene la spida e poi erano scappati via per poi essere ripresi fino al 6-5 ma la rimonta poi della Fiorentina non si è andata a concretizzare la Fiorentina quindi rimane sul pezzo nonostante la mancanza di un giocatore di esperienza come Felice Caetano che purtroppo è infortunato e sappiamo che salterà praticamente tutta la regular season sicuramente vedremo se potrà tornare perlomeno nei play-off per quanto riguarda la Serie B ovviamente per il Napoli per la Serie A tornerà dovrebbe tornare perlomeno per la Champions League ma la notizia importante è che l'Ajax ha perso ovviamente e quindi si fa riacciuffare lì in vetta inizio a pensare che l'Ajax debba concentrarsi più sul campo come poi ha dimostrato di fare dopo l'espulsione di Capitan Lisio contro il Porto se non vado errato quindi deve concentrarsi più a giocare meno a parlare perché la seconda espulsione e tu mi stai dicendo ora perché non ero a conoscenza che verrà somministrata un'ennesima maxisqualifica ad un giocatore dell'Ajax vuol dire che qui manca proprio la componente psicologica la componente nervosa forse stare al primo posto sta facendo male all'Ajax si stanno creando troppe aspettative che magari qualcuno non riesce a gestire ho parlato durante la settimana con Ettore Casalino e Antonio Annunziata che sono ragazzi che hanno fatto calcio anche ad un certo livello e quindi sono abituati a calarsi in queste realtà competitive se vogliamo così chiamarle ma quello che mi preoccupa è che non tutti stanno dando la stessa risposta di ragazzi esperti come Casalino è annunziata e quindi non lo so magari c'è bisogno di una lavata di capo di Patron Lisio assente ve lo sappiamo a per mancanza geografica sul territorio italico ma anche per la maxis qualifica che ha rimediato settimana scorsa quattro giornate per lui e quindi c'è bisogno da registrare qualcosa per quest'Ajax non per quanto riguarda il gioco ma proprio per quanto riguarda la tenuta dei propri uomini forse anche il Cagliari ha qualcosa da registrare in quanto si è presentata con cinque calcettisti contati contro il Borussia Dortmund è arrivata la vittoria dei gialloneri per 5 a 1 adesso il secondo posto in gradatoria è diviso proprio fra il Borussia ed il Foggia che ha passeggiato tranquillamente 7-2 con il Cognasport noi sappiamo che il Foggia ad inizio campionato ha fatto un proclamo voleva vincere la Serie B a mani basse patron Ruggero e patron Baglivo l'hanno detto anche i nostri microfoni durante il corso delle settimane e ovviamente il ritorno del Foggia era totalmente da preventivare non c'erano dubbi come non c'erano dubbi che la Fiorentina dopo la sconfitta dell'Ajax avrebbe riserrato i ranghi per la Fiorentina c'era solamente l'incognita Gaetano che ovviamente avrebbe totalmente spostato gli equilibri della Serie B perché conosciamo che il giocatore sia Gaetano dicevamo del Cagliari che invece Mano Mano è andato a sgonfiare è la stessa identica situazione di due anni fa quando il Cagliari si approcciò alla Serie B per il primo anno iniziò fortissimo iniziano a cadere i pezzi dal mosaico della Rosa e il Cagliari si sgonfia bomper invece per il Borussia conosco i ragazzi che al netto di qualche polemica di troppo è di qualche carattere un po' bollente all'interno della Rosa del Borussia sono tutti quanti ragazzi giovani e calcettisti esperti uno su tutti che l'unico che conosco di persona è Marco Minichini un ragazzo dalle importanti qualità tecniche e quindi mi aspetto che incalato in un contesto come quello gli altri siano di pari rango e quindi è già ben definita la realtà del Borussia Dortmund ovviamente lì sopra non c'è nessuno che può scappare perché l'Ajax è la vera sorpresa lì sopra perché la squadra è attrezzata ma non si pensava potesse arrivare subito a questi risultati e questo vuol dire che il lavoro di Patron Lisi ha pagato durante questo anno e mezzo di militanza in Serie B la Fiorentina è quella che era secondo me la favorita del pronostico grandi calcettisti Nunziata e Gaetano su tutti ne ha perso uno ma non ho mai visto un Nunziata così forte in questi tre anni di militanza al Jack il Foggia può contare anche lui su calcettisti importanti e lo sta dimostrando con la Maxi di Monta che sta effettuando e poi il Cagliari che va un attimo da registrare ed è quella che forse parte un po' più indietro nelle gerarchie l'ultimo passaggio l'Olimpic Leone un'altra squadra che doveva stracciare il campionato si accusano qualche battuta a vuoto di troppo in queste ultime tre giornate l'Olimpic Leone ha frenato ha frenato anche il suo bomber principale Brachi che dopo le prime tre giornate era capolista era il primo nella lista appunto dei cannonieri per quanto riguarda la Serie B ma il Foggia potrebbe perdere qualche pezzo a gennaio in favore di altre squadre perché nello spogliatoio pugliese si parla anche un po' romano quindi di rimando potrebbe finire qualche calcettista risollevare il Sancto Paoli che la prima esperienza è in Serie B a tre punti attualmente ha perso lo scontro diretto con il Leicester per risalire un po' la classifica quindi a gennaio necessità per forza di trovare delle forze fresche dal mercato Il San Paoli è da applaudire solamente perché per ciò che è successo cioè l'abbandono di praticamente metà rosa durante a campionato a campionato oramai iniziato e quindi che ha cambi come abbiamo detto prima che non si possono effettuare la lista è piena e quindi ha pagato questo scotto importantissimo e da applaudire ricevo solamente perché altre squadre negli scorsi anni con questa situazione hanno letteralmente abbandonato cioè hanno di fatto abbandonato il trofeo quindi si giocava con un turno di riposo oppure si riuscivano partite fassate dove la squadra si presentava in tre in quattro elementi e quindi l'organizzazione doveva adoperarsi per trovare l'extra per almeno assicurare una parvenza di irregolarità che tale non era perché ovviamente se prendiamo una squadra su tutte per esempio la squadra XY una squadra a caso e si presenta con una rosa di 12 elementi che ha un determinato valore ovviamente non solo si presenta in cinque contati e quindi quel valore è già totalmente perso ma poi vanno messi elementi esterni non ponderati nell'assemblaggio totale della rosa ma di per sé che quella squadra non dico che è falsa il campionato ma comunque ha dato una irregolarità specie se poi quella squadra è una squadra favorita e quindi si è presentata con una rosa di assoluto valore nei 12 iniziali e poi inizia a perdere contro l'ultima in classifica perché non si è organizzata con i soliti canoni quindi per questo un grande applauso va fatto ai ragazzi del Sant'Paoli che almeno con le loro forze stanno assicurando la regolarità della serie B e soprattutto è importante perché abbiamo visto come il di sopra il campionato sia di assoluto equilibrio inoltre quindi tu mi hai fatto una domanda ben specifica che ovviamente è quella del Foggia che potrebbe perdere qualche pezzo buon per il Sant'Paoli e buon per chi acquisterà giocatori del Foggia perché sono tutti quanti di assoluto spessore male per il Foggia stesso perché vuol dire che se perde qualche pezzo c'è da risostituirlo ora quando una macchina funziona bene perdere i pezzi è difficile perché vuol dire che o se ne sostituiscono con giocatori di ugual valore oppure di giocatori di valore più alto e quindi si dà un miglioramento effettivo della rosa oppure cambiare è sempre difficile perché è più facile perdere che guadagnare in un cambio ovviamente si aspetta il mercato di gennaio per fare un bilancio di questi cambi che potrebbero esserci attorno al Foggia ma lo ripeto chi ne può guadagnare sono solamente le squadre che poi andranno a tesserare i giocatori rossoneri in chiusura c'è Empoli Salernitana 5-2 per i Toscani e quindi l'amico Nicola De Falco se la ride grazie ad un Superviscovo che ha praticamente risolto la gara contro la Salernitana ecco l'Empoli è un'altra squadra che vediamo da vicino per l'amicizia che c'è con Nicola De Falco diciamo il presidente barra referente di questo di questo Empoli e vanno apprezzati i ragazzi perché hanno vinto sì due partite a tavolino però ecco è una squadra che basa le proprie convocazioni sulla rotazione completa è una squadra fatta tutta quanta di gente che si frequenta anche oltre il trofeo Jack e quindi è una vera e propria squadra legata da vincoli di amicizia e quindi è una squadra che incarna pieno lo spirito del Jack questo qua l'ha notato anche l'organizzazione che ha fatto più volte complimenti all'Empoli e poi sappiamo che ha un giocatore importante come Viscopo che abbiamo osservato l'anno scorso col Tottenham che può cambiare il volto di una squadra e la sua presenza ovviamente consente all'Empoli di fronteggiare di fronteggiare anche sfide delicate come questa con la Salernitana con una marcia in più e inoltre ha recuperato il proprio portiere titolare l'ho visto al campo l'altro giorno Ambrosino che è un portiere secondo me di assoluto valore ed è questo qua un grande acquisto non solo per il Lempoli ma per il livello del trofeo Jack 14 squadre in classica ognuna con la propria realtà con le proprie caratteristiche stiamo osservando in un campionato molto equilibrato interessante soprattutto dai forti valori agonistici e competitivi c'è tanto spettacolo attorno a questa Serie B quindi è il momento di osservare gli highlights con i gol più belli di questa giornata e poi le interviste raccolte direttamente nel post partita si erano giocate partite importanti per decretare la capolista tutto annullato da quanto accaduto nella sesta giornata confermare l'imprevedibilità di un campionato di Serie B che si rivela più agonisticamente valido che mai l'Ajax perde di misura contro la Sampdoria al fotofinish della ripresa con i blucerchiati che hanno fatto del loro meglio in cinque calcettisti contati gli olandesi invece escono male da una sfida che vede anche Nappi espulso pedina importante per le prossime gare torna a farsi sotto la Fiorentina che ora è al primo posto in coabitazione l'impegno di giornata contro il Porto non era di più proibitivi ma i Lusitani hanno comunque venduto cara la pelle uscendo sconfitti di sole due lunghezze con gli importanti gol di Benedetto che pesano al referto al secondo posto un'altra coppia il Foggia non evidenzia grandi problemi nel battere il Cognasport mentre il Borussia Dortmund porta a casa il colpo grosso facendo cadere il Cagliari i tre squilli firmati Ambrosino proiettano l'attaccante in cima alla classifica Cannonieri permettendo ai gialloneri di superare in graduatorie diretti avversari ritrovano la vittoria con una buona prova il Parma e l'Empoli mentre continua ad essere crisi per la Salernitana costretta ad assistere al rilancio dell'Eister che scala importanti posizioni nella più recente tornata di campionato Siamo con San Daniele Maffettone dei Leister che muove la classifica in Serie B e centra un importante successo contro il San Paolo per le zone di metà classifica ragazzi una sfida attirata ma che avete comunque portato a casa Sì era importantissima questa vittoria una partita all'insegne del fair play assolutamente era importante perché erano solo i tre punti i nostri quindi per il nono posto un importante dei tre punti sono stati Maffettone era un po' un derby quello con San Paolo c'erano due amici dall'altro lato come Cassese Gian Paolo e Gian Domenico Piccolo che sfida è stata ovviamente improntata al fair play però anche questo è il trofeo Jack dove amici per 50 minuti diventano nemici è stata una sfida molto dura perché si sono incontrate due squadre che comunque lì in fondo della classifica se la lottano e oggi si è visto un buon match lottato fino alla fine tra le due squadre e la nostra ha vinto forse perché siamo stati più concentrati sulla partita e siamo riusciti a raggiungere questo traguardo questi tre punti che ci servivano per appunto accedere ai playoff playoff nono posto Santanillo sembra chiaro l'obiettivo dell'Eister ma il campionato di serie B è un campionato equilibrato che non regala nulla sì sì ma sono tantissime partite 26 se non sbaglio però come abbiamo detto sempre è un obbligo lottare per il nono posto perché comunque sono 14 le squadre quindi ne bastano superare 5 quindi dobbiamo lottare fino in fondo come oggi tra l'altro che il primo tempo hanno giocato meglio loro 2-0 sopra però poi abbiamo lottato e l'abbiamo portato a casa Maffettone in chiusura qual è l'apporto che Renzi può dare a questa squadra? no è un giocatore importantissimo soprattutto perché comunque andiamo sempre in 5-6 persone al campo e quindi Renzi dà una grossa mano a questa squadra perché ci fa rifiatare ma soprattutto è forte a tenere bene l'avversario quindi ci potrà dare una grossa mano in questo campionato e anche tanta corsa dico eh Antonio tanta corsa corsa e forza siamo qui con Michele Napolitano del Parma stasera una vittoria 8 punti per questa squadra piano piano stiamo risalendo la china nonostante i primi risultati le prime sconfitte stagionali sì oggi eravamo molto rimaneggiati abbiamo fatto una grande partita i ragazzi ce l'hanno messa tutta abbiamo fatto il primo tempo diciamo li abbiamo aspettati perché comunque eravamo contati e quindi andarli a prestare alti già dal primo tempo era un po' più difficile nel secondo tempo li abbiamo prestati alti siamo andati in vantaggio di 4 gol e poi diciamo che là è finita la partita stasera mancava il capitano Pezzillo vi dà una grossa perdita in campo è stato oppure non avete sentito la sua mancanza Pezzillo è un uomo sfogliatoio Pezzillo ci dà una mano sia fuori dal campo che dentro al campo oggi la perdita come si è sentita la perdita sua si è sentita la perdita di parecchi altri nostri compagni ti sei aggregato al gruppo da poco sono due o tre partite come ti trovi con questa squadra sei entrato nei meccanismi di questo Parma sì i ragazzi sono sono tranquilli qui veniamo a divertirci senza stress poi se vinciamo bene se perdiamo non fa niente l'obiettivo qual è la serie A oppure per il primo anno solo divertirsi come hai detto tu l'obiettivo è divertirsi però ovviamente perdere non piace a nessuno noi cerchiamo sempre di vincere ogni partita poi si vede siamo in compagnia di Lauro che questa volta assistito dalla panchina ma è arrivata una vittoria per il Borussia Dortmund una vittoria importante anche per ritornare nelle piazze alte della classifica perché arriva contro il Cagliari che finora ha fatto un buon campionato sì effettivamente stasera noi sapevamo che era veramente difficile ovviamente i ragazzi ce l'hanno messa tutto e ce l'hanno fatto sono veramente molto contento perché il Cagliari effettivamente era veramente tosta come era veramente tosta come stasera come partita sono veramente contento di questi tre punti che serviranno sicuramente in futuro in futuro per il campionato per il nostro percorso il Cagliari era in cinque uomini contati ma soprattutto diciamo che c'era il problema del clima stasera molto proibitivo per giocare ma nonostante tutto questa partita si è svolta regolarmente e si è riusciti comunque a sviluppare un buon gioco ed a vincerla sì fortunatamente i ragazzi stasera erano in forma particolarmente quindi hanno giocato veramente molto bene infatti non per vantarmi o per vantare loro però hanno giocato veramente molto meglio anche meglio di loro ce la meritavamo stasera e speriamo che arriveranno altre vittorie anche con le altre più difficili come Fiorentina magari Ajax che ho visto che sono particolarmente forti quest'anno un campionato lungo saranno 26 le giornate in tutto si deciderà secondo te attraverso gli scontri diretti oppure se si perde qualche punto contro le squadre meno blasonate si rischia di perdere delle posizioni importanti in vista poi del fine campionato beh sicuramente io ho visto alcune squadre anche quelle di bassa media classifica che comunque parliamoci chiaro dipende anche da chi da chi in quella giornata c'è come è capitato stasera siamo stati anche devo dire la verità anche un po' fortunati perché erano contati quindi dobbiamo anche riconoscere questo bisogna essere sinceri sono belle squadre anche quelle di media bassa classifica ho visto ho visto il Parma che anche se all'inizio ha perso molte partite però è una squadra che a me piace ho visto che ora stavo riguadagnando anche parecchi punti infatti Rieccoci in studio per lo spazio dedicato ai tornei paralleli partiamo subito dallo sponsor Jack sponsor Jack che per la quarta giornata ha osservato le seguenti sfide non c'è due senza tre contro Eni 4 ad 1 Espania contro Videonola 8 a 2 mentre invece Bruco Spizzi contro Pezzereniello un match con tanti gol ben 25 ma la vittoria va agli ospiti per 14-11 per una classifica provvisoria che vede proprio il Pezzereniello al primo posto con 12 punti Dream Call 10 Espania 9 non c'è due senza tre 7 Bruco Spizzi 6 punti Videonola 3 Eni e Feudo 86 a quota 0 punti dallo sponsor Jack passiamo all'over 30 che proprio per la quarta giornata ha osservato queste sfide l'Atletico Minero vince fuori casa contro il Corinthians per 10 a 3 International contro Flamengo 8-7 Forteleza contro Santos 10 ad 1 per una classifica che vede al primo posto l'Atletico Minero con 10 in coabitazione con l'International Flamengo e Corinthians a 6 Forteleza i primi tre punti in campionato mentre invece il Santos è ancora a quota 0 torniamo in studio per affrontare per approcciare questi tornei paralleli Isidoro questi tornei sono più riservati insomma o ad attività commerciali oppure a determinate fasce d'età ma allo stesso tempo riescono a dare il giusto agonismo non sono tanto per giocare ma comunque chi gioca vuole arrivare al meglio della propria possibilità in gradatoria ovviamente se andiamo a vedere quello partiamo da quello ovviamente dell'attività lo sponsor Jack tanti ristoranti quindi addetti alla ristorazione che ovviamente la sera hanno da lavorare non possono essere presenti oppure ecco partecipare alla serie A o la serie B dipende poi ovviamente dai giocatori e quindi vogliono comunque essere partecipi di questa grande famiglia che è il Jack oppure molto più semplicemente mantenersi in forma non fermarsi con l'attività fisica come per esempio i ragazzi con cui abbiamo giocato questa settimana noi di Videonola se non vado errato Espana che hanno un ristorante a Marigliano e quindi va di per sé che ovviamente hanno comunque voglia di impegnarsi hanno voglia di entrare in campo e giocare la propria partita senza però l'assillo di dover centrare per forza la vittoria come magari l'inalzamento dell'asticella in serie A e in serie B comporta invece l'over 30 è un discorso proprio a parte perché ci sono calcettisti di età maggiore che hanno ovviamente valori tecnici e atletici differenti ma che comunque tengono molto al trofeo non dico come in serie A e in serie B ma comunque hanno a un certo peso e vedo soprattutto grandissimo visto nel corso degli anni grandissimo attaccamento a questo over 30 per chi ecco lo vive addirittura per quelli che ecco hanno un'età un po' più alta della nostra lo vivono me chi partecipa sia alla serie A o alla serie B e all'over 30 vive meglio l'over 30 ci tiene più all'over 30 che alla serie A o alla serie B uno su tutti Felice Paolo Panico di cui mi parla in toni sempre entusiastici di questo over 30 e invece vive la serie A con il Napoli non con una foga minore ma comunque sotto un'altra con un'altra verve chiamiamola così mentre invece l'over 30 è proprio non so forse il suo fuori all'occhiello mettiamolo in questi termini forse in futuro anche noi quando la Nagra ve lo permetterà giocheremo all'over 30 soprattutto quando il fisico ci permetterà di svegliarci alle 10 del mattino diciamo che è sempre un po' proibitivo ma forse è proprio questo il fascino del trofeo Jack over 30 e di tutti i tornei paralleli in generale che comunque permettono a chiunque a seconda delle proprie caratteristiche necessità ed impegni di approcciare il gioco al centro sportivo Maracanà noi siamo in chiusura di trasmissione di premio ringraziare e salutare Isidoro Alberto Tardivo che ha supplito alla grande all'assenza e al prossimo ritorno di Giorgio Lisio sempre se il ritorno è ancora un'incognita questa io spero che torni però non mi hanno dato sicurezza in tal senso gli aggiornamenti social non sono dei più sicuri e dei più lieti diciamo soprattutto quelli che abbiamo visto prima di cominciare la trasmissione veramente mi hanno fatto preoccupare per favore Giorgio torna a casa torna Giorgio ma soprattutto ci vediamo al centro sportivo Maracanà con te con tutta la scatenata banda del Jack mi verrebbe da dire che anche per questa settimana colorerà e caratterizzerà le partite di serie A di serie B di sponsor Jack e di over 30 ci sarà una settimana piena di appuntamenti e di impegni ci saremo noi al campo ma soprattutto il salotto Jack tornerà settimana prossima per il consueta appuntamento e la consueta analisi non mi resta che augurare un buon proseguimento di serata in compagnia del palinzesto di Videonola e come ogni settimana e come sempre buon Jack a tutti